E diciamo anche grazie al Comune che ce la sta mettendo tutta per battere ogni record, qualità. Vedi, mancano gli spazi per gli alberi, Milano perde 12 milioni di euro del PNRR. L'Europa aveva dato 12 milioni a Milano per piantare 280 mila alberi in due anni. Nessuna azienda ha risposto al bando del Comune perché non c'è lo spazio. Ma scusate, prima fai il bando e poi ti accorgi che non c'è lo spazio. L'unica soluzione era piantare degli alberi in seconda fila ma si sono opposti i proprietari del SUV. Ma d'altra parte, come fai a piantare alberi se non puoi innaffiarli? E non c'è l'acqua. Si cita in Lombardia, Milano pensa di abbassare il livello dell'acqua dai navidi, la situazione non fa ben sperare.